Siamo noi buon pomeriggio a tutti. Questi volti sono stampati indelebili nella memoria di tutti noi perché proprio in queste ore 10 anni fa Rosa Bazzi e Olindo Romano confessavano l'uccisione a colpi di Coltello, di Spranga, di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini in quello che poi passerà la storia come la strage di erba. Una vicenda dai toni cupissimi da vicini di casa ad assassini coinvolgendolo avete sentito anche un bambino ucciso per motivi assolutamente futili. A 10 anni dalla confessione di Rosa e Olindo, fatto che sconvolse l'intero paese per la violenza e la gratuità dell'accaduto noi vogliamo tornare ad interrogarci su quella terribile storia. Sì Massimiliano lo facciamo subito con gli ospiti che vedete qui già con noi nello studio allora do subito il benvenuto a Cinzia Tani, collega giornalista, scrittrice, autrice televisiva ben arrivata. A Cinzia Mammoliti, criminologa. A Don Angelo Romano, rettore della Basilica di San Bartolomeo all'Isola di Roma, ben arrivato. Al collega giornalista Pino Corrias, ben arrivato anche a te. E a Elvio Raffaello Martini, psicologo di comunità e adesso vedremo di che cosa si tratta. Allora Don Angelo noi mettevamo l'accento, secondo me giustamente, sulla violenza, sulla gratuità cieca di quella vicenda sull'accaduto. Io direi si tratta di una storia nemmeno immaginabile per la gravità del fatto e anche nelle modalità. Sì, innanzitutto infatti colpisce il numero delle vittime, la dinamica delle cose. Di fronte a fatti così drammatici, oltre a esprimere ovviamente il dolore per le vittime e per quanti poi i loro familiari hanno dovuto vivere questa tragedia. La domanda che ci si fa sempre è come si potrebbe fare a prevenire una cosa di questo tipo. Quali sono stati i segnali di allarme che in qualche modo si sarebbero potuti individuare? De proprio un'attura Don Angelo, perché noi ci interroghiamo su questa vicenda perché vogliamo rimarcare da un lato la follia della solitudine di Rosa e Olindo che molto probabilmente ha condotto alla strage di erba. Ci suggerisce tutto questo, a mio giudizio, le chiedo una lettura su questo, se può essere la base del fatto, un altro modo di vivere, un altro modo di fare comunità. Forse questa è la risposta. Io penso di sì, nel senso che la solitudine genera sempre un po' cose che non sono buone. ecco, questa certo è clamorosa, però non c'è dubbio che l'assenza di una rete che possa servire anche da garanzia, anche da in qualche modo rete di sicurezza nei confronti di situazioni magari di tensione o di problemi che possono scoppiare, effettivamente quando questo manca purtroppo succede una tragedia come questa qui. Certo questo è un caso un po' eclatante. Un caso che ci ha sottratto, che ci ha tolto non angelo le parole. Sì esatto, non è certamente una cosa che si può prendere come un esempio di una dinamica regolare, normale, diciamo ovviamente. Stiamo parlando di un caso eclatante e per certi versi anche estremo, però non c'è dubbio che forse, ecco, se ci fossero state delle rete in più, chissà, è una domanda che ci facciamo. Cercheremo di capire, sono tante le zone oscure che restano in questa vicenda e la riflessione che faremo qui riguarda un po' tutti dentro o fuori dello studio, dunque vogliamo cominciare subito a coinvolgervi con il nostro Simone. Simone. Grazie Gabriella. Dieci anni fa la strage di Erba e l'uccisione di quattro persone tra cui il piccolo Yousef. Raccontateci dunque i vostri ricordi ma soprattutto diteci che cosa avete pensato man mano che emergeva la verità su questa vicenda. Per oggi parleremo anche di comunità e di vicinanza. Allora vi chiediamo di condividere con noi le vostre esperienze positive vissute con i vostri vicini, con coloro che abitano nel vostro condominio ma anche con i vecchi e i nuovi amici del vostro paese. Insomma vi chiediamo di raccontare la vostra esperienza all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail a siamonoichiocciolatv2000.it, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a chiocciolatv2000. Grazie Simone. Allora prima di coinvolgere gli altri ospiti voglio proporvi un contributo perché tempo fa la nostra Caterina Dall'Olio ha incontrato Carlo Castagna, il nonno di Yousef che in quella terribile strage perse la figlia, il nipote e la moglie. Grazie alla sua fede ci ha spiegato davvero cosa sia il senso del perdono Castagna in questi anni. Grazie alla fede ha superato, ha elaborato quel doloroso lutto, quella dolorosa vicenda. Noi vi proponiamo l'inizio dell'intervista in cui Castagna ricorda gli attimi iniziali di quella strage. L'immagine che mi rimane più impressa è quella del piccolo Yousef, a braccia allargate, riverso con la nuca sul divano, i piedi appoggiavano per terra, era una piccola croce. Quella sera per quello che mi è stato possibile poi anche riuscire a conoscere attraverso un verbale della loro confessione. Mi sembra che lui parli proprio di che quella sera lui non aveva di fronte dei volti umani ma aveva di fronte dei conigli, quindi lui vedeva dei conigli nelle persone che stava ferendo. La razionalità, il domandarsi perché questo, perché quest'altro, ma perché siamo arrivati a questo fatto. Questo sminuzzare gli eventi, questo voler entrare nel merito di tante cose e voler trovare per tutte le coppie, per tutte queste nostre domande, una risposta, ecco questo è il modo più sbagliato per affrontare una richiesta di perdono, una richiesta di contatto con i piani superiori. Cinzia, queste parole, le parole di Carlo Castagna, dapprima il ricordo del nonno e poi questo senso che ci restituisce la vastità del crimine, della tragedia commessa. Ha detto una cosa emblematica, loro vedevano le vittime come conigli, a parte che coniglio lo dice proprio Rosa, dice quando ucciso il bambino è come se avessi sgozzato un coniglio, ma le coppie che uccidono, e ricordiamo Erika e Omar, ricordiamo Maso con Carbognini, ricordiamo la strage di Doretta Graneris, padre, madre, nonno, nonna e cane e fratellino, quindi queste stragi sono le più cruente, quindi mazze, coltelli eccetera, e le più pretestuose nel senso che manca un vero e forte movente, non è il femminicidio, tu mi hai lasciato lasciato io, ti odio, la mia rabbia mi porta a uccidere, sono stragi terribili e in cui c'è maggiore responsabilità perché si è in due, quindi un assassino guarda la faccia dell'altro assassino, non si può parlare di raptus con due persone, due persone decidono di fare qualche cosa, pianificano, decidono e poi depersonalizzano le vittime, altrimenti non potrebbero farlo, quindi quelle non sono vittime, per Olinda e Rosa erano ostacoli alla loro pace, alla loro serenità, alla loro solitudine nella loro casetta. E torniamo a quel punto. Pino però vorrei sapere da te perché a tuo giudizio questa vicenda, orribile l'abbiamo sentito, differisce dagli altri casi di cronaca nera, cosa c'è di più? Perché secondo me, io ho scritto un libro, Vicini da morire, ma non ero tanto diciamo preso dalla questione delle indagini, del caso di cronaca nera nei suoi infiniti dettagli macabri, quanto dal fatto, secondo me, che era un delitto emblematico. Tu l'hai detto in un contesto molto ampio. Sì, perché io infatti ho allargato da l'Or, da Olinda e Rosa e da quella notte del 6 dicembre del 2006, ho allargato alla società, al paese e ho visto la dissoluzione di una comunità. L'abrianza che è punteggiata da tanti paesi, un tempo ogni paese aveva un'identità, una sua lingua, una sua storia. Adesso è diventata questa la cosiddetta... Provincia anche ricca, teoricamente ricca. Che è diventata questa città infinita, città infinita, che va da Torino al Trentino, diciamo. Quindi spersonalizzazione della porta. L'arrivo dell'immigrazione che naturalmente ha generato uno spaesamento, cioè una sottrazione di cittadinanza dai vecchi cittadini e quindi il tessuto connettivo e le relazioni si sono perse e secondo me la chiave di questa storia è certamente la solitudine. La solitudine, certamente la solitudine lo si vede in quel caseggiato dove questa cosa accade, che è una vecchia azienda agricola che un tempo sarebbe stata abitata da quasi un'unica grande famiglia. Invece lì erano mini appartamenti, parcellizzata e nessuno sapeva tanto dell'altro. In più loro due erano la cosiddetta coppia specchiante, ci sono i magistrati che la chiamano un quadrupede, nel senso che Olindo e Rosa li paragonano a un quadrupede, nel senso che vivevano in una totale simbiosi e vivevano in una simbiosi anche dell'ossessione, l'ossessione contro i vicini di casa. Se ben ricordo poi entrambi si sono attribuiti individualmente alla responsabilità, cosa che colpì tutti noi. No ma infatti, io ho visto gli interrogatori filmati dai carabinieri fatti in carcere e sono stati fatti contemporaneamente e filmati e il racconto è assolutamente coerente sia dell'uno che dell'altro ed è complementare. Quello che si attribuisce Rosa non se lo attribuisce Olindo. Per questo che quando dicono adesso bisogna rivedere il processo, bisogna rivedere le cose, io non ci credo, tanto più che poi è rimasto vivo un testimone oculare. Ci dai un quadro appunto sopravvissuto a questa strage, un quadro facendo ricordare che cosa è accaduto, prima ci diceva Cinzia manca totalmente un muovente, erano infastiditi dai rumori. Ma che cosa è successo? Sono quelle ossessioni domicinate, litigio dopo litigio, è un'ossessione che è cresciuta nel tempo, che è durata anni. La Castagna era la figlia della famiglia Castagna che è una famiglia molto importante di erba, molto ricca, però era anche una ribelle, si sposa con Azuz Marzuc che è un piccolo spacciatore tunisino, la famiglia è contraria, però lei riesce di casa, va a vivere, ha questo figlio. Nel primo tempo anche lui coinvolto nella vicenda. Nel primo tempo coinvolto, lui è stato totalmente semplice. Perché era tunisi lui, non c'era. Però fu coinvolto all'inizio. Però fu coinvolto perché sì, era stato arrestato con spaccia di droga. Immediatamente sospettato, immediatamente crocefisso, immediatamente sbattuto in prima pagina tutti i giornali del giorno dopo che poi faranno ammenda, perché non trovando si hanno detto è lui, mentre invece nessuno era andato a verificare che lui alcuni giorni prima era partito. Anche perché lo scenario reale è infinitamente più terrificante, se vogliamo. Sì, certo, esattamente. Però io vorrei chiedere alla dottoressa Mammoliti a questo punto, perché qui sono emerse due cose, il fastidio, che è un termine assolutamente futile per motivare un delitto così atroce, e dall'altro lato la solitudine. E allora io le chiedo perché queste persone a suo giudizio furono uccise, dal fastidio per il fastidio o per la troppa solitudine? Io vorrei invitare a guardare il tutto sotto un altro aspetto, un suggerimento, cioè analizziamolo invece in un altro modo. Coppia simbiotica, definita da tutti simbiotica, iper simbiotica, con competenze cognitive e emotive abbastanza scarse. Livello di ignoranza e di scolarizzazione molto basso, coppia che vive fondamentalmente per stare insieme. Allora, la solitudine di cui parlavamo è una solitudine che spesso ci si ritrova ad avere nei vicinati, soprattutto in dimore strutturate come quella indicata, che non consentono di vivere sereni talvolta. Il problema della legge basale e della chiusura dei manicomi ha lasciato tantissime persone in libertà disturbate psichiatricamente o anche persone sane che molestano. Insomma, pare che fosse noto la molestia, il vicinato che era molto caotico. Stavamo parlando di futili motivi. Va bene, ma noi siamo sicuri che siano stati così futili. Non fraintendete, non voglio minimamente difendere ovviamente un'azione così efferata e cruenta, però non credo che per futili motivi potesse scattare nella mente di due persone, ripeto, con pochi strumenti anche per una premeditazione, tale da fare una carneficina, una mattanza. Per cui solitudine che molti hanno quando si ritrovano in quella che la giurisprudenza ha intercettato e individuato come stalking condominiale, perché la figura dello stalking è stata estesa in una sentenza del 2011 anche alle situazioni condominali moleste. Ricordiamoci... Mi perdoni, dottoressa, io accetto la sua riflessione, però mi pare di capire che se tutti i litigi condominali, tutte le vicende condominali finissero nella strage di Erma, saremmo un po' rovinati. No, per carità, assolutamente. Soprattutto saremmo soli. Non voglio minimamente passare questo messaggio, però voglio dire, mentre parlavamo di futili motivi, e sicuramente un futile motivo, io vorrei concentrarmi sulla motivazione che poi si è scattata in due persone disturbate che vedevano lì in continuazione un via vai, sto analizzando solo cosa ci fosse stato nella loro mente. Ovviamente è un crimine efferato da punire e da castigare, ma il futile motivo non è detto che fosse poi tanto futile, c'era un via vai di perso di spacciatori, di gente che comunque lì continuava... Non condivido, francamente, non condivido. Siamo proprio qua, ma anche perché loro non ce l'avevano solamente con la famiglia Castagna. Bastava che qualcuno facesse cadere un vaso e loro li aggredivano, hanno picchiato una piscina, hanno fatto causa. Secondo me è una cosa dire, come dire, oggettivamente questo non può che essere un futile motivo. Ma certo. Se poi soggettivamente in persone disturbate il futile motivo che resta futile motivo assume una proporzione diversa, questa è un'altra cosa. Però hanno fatto le ferite psichiatriche e loro non erano disturbate, sono lucidissimi. Adesso cerchiamo anche di capire bene il contesto in cui è maturato questa strage, mi viene anche difficile dire delitto. Coinvolgendo comunque anche Martini, con lei ci occuperemo di comunità, io vorrei così ristabilire un momento di respiro, sembra assurdo dopo quello che stiamo dicendo. Il condominio può tirare, in base alla sua esperienza, che poi ci racconterà fuori il bello, e tanto bello, tantissime iniziative e contemporaneamente anche il peggio. È d'accordo Martini? Ma certo, io non conosco nel dettaglio la storia di Rosa e Olindo, non me ne sono occupato direttamente e credo che tutto questo sforzo per andare a studiare e a spiegare le ragioni di questo gesto alla fine non ci portano poi molto lontano. Questo è un gesto emblematico di una conflittualità che in un contesto condominiale si verifica spesso e che agganciando delle persone particolarmente fragili ha prodotto quello che ha prodotto. Starei attento a non accostare questa cosa al tema delle persone che hanno disagio psichico e che vivono nei condomini, che ce ne sono tanti, e rappresentano molte volte un problema. Altrimenti disturbiamo i sonni di parecchie dei nostri aspettatori. No, perché i servizi non sono seguiti e la gente che vive insieme a loro sotto lo stesso tetto non è in grado di capire come relazionarsi con noi. Ricordando poi che il confine tra quello che è sano e non lo è, è molto difficile. Pino, torniamo a quella coppia perché è interessante capire chi sono e come vivevano. Erano due persone anche molto semplici, con un livello di scolarizzazione bassissima. Io penso che se fossero state analizzate da uno psichiatra lì avrebbe anche forse trovati assolutamente normali. Vivevano, e la cosa è abbastanza emblematica, nell'ossessione della pulizia. Lei faceva la domestica a Ore, era la terza elementare. Lui faceva il netturbino. Non avevano amici, non avevano rapporti con la famiglia di prima, di provenienza, con le rispettive famiglie. Era totalmente una monade. E questa ossessione della pulizia ritorna perché in un interrogatorio lei dice che siamo andati su, perché loro stanno al piano terra, la castagna, che è anche una signora, che è anche figlia di una famiglia importante, mentre loro si considerano due poveri disgraziati, soli al mondo, siamo andati su e abbiamo fatto pulizia. E quindi è ovvio che stiamo parlando di un caso assolutamente paradossale, emblematico, tutto quanto, però secondo me illumina quel nero che sta accadendo in quel mondo orizzontale che è il nostro mondo. È evidente che non tutti i litigi, per fortuna, se no appunto saremmo solo superstiti, si concludono con una strage. Però anche i futili motivi possono diventare una tale ossessione perché loro poi parlavano della castagna, avevano una querela da parte della castagna perché l'avevano aggredita sei mesi prima e quell'aggressione stava diventando un processo, il processo sarebbe andato un rancore infinito. In più questo noi siamo poveri, lei è ricca e cattiva, noi siamo per bene, lei è per male. È diventato noi contro tutti, contro loro. Esattamente. L'altra cosa che scomorse il Paese, a me personalmente, in quelle ore, fu la facilità con cui Rose e Olindo tornarono alla loro esistenza di tutti i giorni, alla normalità della vita, rilasciando anche delle interviste fuori lì al cortile. Questo è un altro aspetto inquietante, o no? Sì, nel senso che loro si erano aperti, si erano scatenati, avevano ucciso e poi si sono tornati a chiudere. E in quella loro chiusura erano così inattaccabili. Perché se uno guarda, io le ho viste tante volte, le immagini, loro tornano, ci sono i giornalisti perché poi naturalmente tutte le televisioni sono accampate di fronte a quel condominio, ci sono giornalisti che arrivano da tutta Italia. contesto sul re e loro passano infastiditi e dicono andatevenne a casa, cosa fate qua, che fate da noi, perché ci mettete in mezzo. Erano disturbati ed erano anche abbastanza aggressivi. Ricordiamoci che è uno dei pochissimi casi in cui la coppia assassina non si separa dopo il processo. Esatto, in quasi tutti gli omicidi compiuti dalle coppie assassine, il famosissimo caso Bebawi in cui si accusano a vicenda, ma Erika e Omar, tutti si sono separati, anche la coppia dell'acido che ricordiamo dopo il processo, esatto, recentissime, si sono separati. Loro non solo non si separano, si uniscono ancora di più, chiedono i permessi per stare insieme, si stringono. L'unica cosa che chiedono è stare insieme, per ricreare. Loro, lui a un certo punto dice, per me va bene rimanere in cella anche tutta la vita, purché con Rosa. Cioè, a loro andrebbe bene anche di stare in uno sgabuzzino insieme. Senti Cinzia, tu a questo argomento hai dedicato anche un libro, no? Coppie assassine, e lì tu hai fatto proprio una, come dire, una panoramica di storie di coppie, non necessariamente formate insomma da uomo o donna, anche da madri, figlie. Quanto ti ha sorpreso la dinamica di questa tragedia, cioè il modo in cui la coppia ha retto? Mi ha sorpreso moltissimo proprio perché non l'ho mai riscontrato prima. Cioè, nel senso che di solito le coppie assassine anche più recenti negli Stati Uniti, mettiamo, no? Maschio, violento e donna normale, ragazza normale, si innamora di un delinquente e fa per lui delle cose che non voglio neanche raccontare, che quasi la strage di Erba è quasi niente in confronto a quello che è successo in queste coppie. Poi al processo, lei torna ad essere la brava ragazza, chiede l'orsacchiotto, vuole la mamma, vuole il papà, confessa, eccetera, e lui rimane sulle sue posizioni perché lui era comunque un delinquente, uno che comunque avrebbe ucciso. Quindi di solito non restano mai uniti, mai. Qui si tratta di un sodalizio morboso di due persone che hanno, come diceva Pino Corrias, creato un mondo a sé stante. Era una monade, abbiamo detto Don Ange, un'isola, loro contro tutti, insomma questo dà da riflettere. Prima abbiamo detto la solitudine, ma qui insomma c'è una patologia che va ben oltre. Sorprende però sempre il fatto che anche in un contesto isolato come quello che dicevamo, la casa in cui abitavano, i segnali però arrivano sempre molto deboli. Questo è sempre sconcertante. Sì, questo è sconcertante, poi ovviamente mi ha colpito molto quello che diceva il signor Castagna perché è una testimonianza molto bella di un uomo che ha cercato il perdono di fronte a questa catastrofe. L'ha fatto riscoprire anche a noi. L'ha fatto riscoprire anche a noi, infatti mi sembra veramente esemplare anche da un punto di vista cristiano. Però credo che quello su cui varrebbe la pena riflettere è quanto queste cose avvengano anche perché c'è come un inquinamento, diciamo. Un inquinamento a livello sociale, nel modo di parlare, nell'aggressività. Ci sono come scorie che si accumulano in determinate sacche delle comunità o del tessuto sociale e lì generano situazioni assurde. Penso sia difficile veramente trovare una spiegazione. Abbiamo posto altri due elementi, secondo me, la coppia che non scoppia dopo la vicenda Mammoliti e poi la casa che diventa simbolo della strage, come è accaduto per esempio con Erika e Omar o nella vicenda di Cogne. Vorrei che lei ci desse degli spunti su questi due aspetti. La casa è la dimora per Antonio Mase, il luogo in cui è la tua tana, in cui dovresti sentirti più protetto. In una simbiosi, in un rapporto fusionale come quello tra i due carnefici, chiaramente l'attentato percepito probabilmente era l'attentato, come dicevamo prima, alla tana, alla struttura che dovrebbe darci la pace, la serenità. Quindi in una percezione alterata della realtà, poi che ci sia o meno aperizia psichiatrica come sia andata, sicuramente avevano una percezione alterata della realtà, questa tana attentata meritava una mattanza nella loro mente. E quello della casa sicuramente è un elemento che ricorre, anche perché purtroppo la statistica vuole che la maggior parte degli omicidi avvengano sotto le mure domestiche per un motivo o per l'altro. I femmini incidini sono purtroppo la triste testimonianza. Sicuramente loro in questa dimensione, sia psicologica che fisica che materiale, che poi viene mutuata dopo, come dicevate, in carcere l'unica problematica restare insieme. Ecco Mammoliti, a proposito del dopo, tutti noi siamo rimasti abbastanza scossi, ancora più scossi direi, turbati proprio dalla foto che ricordiamo di loro sorridenti dietro le sbarre, come se quelle vicende giudiziarie non le riguardassero minimamente. E questa foto, questa immagine qua, credo sia la più raccapricciante di tutte quelle che sono circolate, a parte quelle dell'omicidio ovviamente, però in questo sorriso di Rosa, che sembra quasi spensierato da ragazzina, secondo me si percepisce tutta la follia. Ora, che sia un termine tecnico quello di follia o meno, l'incoscienza comunque è il non rendersi conto di quello che sta accadendo fuori, perché c'è una tale complicità e si vede dall'interazione, dalla comunicazione del corpo, dal linguaggio del corpo, e dici ma questi qua sembrano al cinema, non so, sembrano a teatro, sono dietro le sbarre e stanno per avere l'ergastolo, per cui quella è a mio avviso quella che dà più i brividi e dà anche la misura del disturbo, della vastità del disturbo. Lei diceva complicità, ma su una sola cosa ancora. No, la follia, lei ha detto giustamente che c'è una follia psichiatrica, ma poi c'è un'altra follia, non per niente questi omicidi vengono chiamati follia 2, cioè follia 2, che non è la follia psichiatrica, è questa unione morbosa di due che decidono di eliminare degli ostacoli insieme e di rimanere insieme. Ed è una psicosia, difficilmente. Io su questo, non so, scusami, ancora una curiosità a chi per professione magari indaga più da vicino, è veramente una complicità come appare a non autoalimentarsi? C'è un ruolo, come dire, di leader? C'è uno dei due che tira l'altro? Di solito c'è. Io qui penso che lui voglia compiacere lei, perché in tutte le loro manifestazioni dietro le sbarre c'è come un proteggere lei, che evidentemente era con lei che più si lamentava e poi lui agiva. Lei diceva che fanno rumore e lui andava a litigare. La castagna mi ha detto che sono una... Faceva l'uomo di casa, però. Eh? Faceva l'uomo di casa. Esatto. Faceva, vabbè, per assurdo faceva l'uomo di casa. Però diciamo che non è stato lui a ideare, non è stata lei a ideare. Però se, come chiedevi tu, ci dovesse essere una minima supremazia, penso che lei sia come l'istigatrice involontaria. Lui l'ha voluta con piacere. È quella che alimentava la psicosia. Sì, è d'accordo. Sì, è d'accordissimo. Questo è un'area di giusto. D'accordissimo perché anche dalle intercettazioni telefoniche, non so se avete sentito qualcosa anche su YouTube, quando lei dice, ma no, ma cosa stai dicendo? Lei è un po' succube di quest'uomo che ha preso in mano la situazione, ha deciso, ha fatto, l'esecutore è lui, sono d'accordo che poi la mandante inconsapevole sia lei poi. Ha acceso la fiamma. C'è sempre un soggetto più attivo. Lei credo che sia dominante, adesso, senza fare gli psicologi, però credo che sia dominante nella coppia, anche se non si vede a occhio nudo, ma indagando i comportamenti dei due si capisce che è lei che mette in moto gli ingranaggi. Andiamo da Simone. Sì, dal web arrivano diverse segnalazioni, vi posso dire che tutta l'Italia si ricorda di questa vicenda. In particolar modo vi segnalo la signora Mariani. lei ci dice, ricordo nettamente le dichiarazioni di questa donna, questa è una strage indimenticabile e credo fortemente che dietro a tutto ciò ci sia un disturbo psicologico ben più grande. E poi abbiamo la signora Clara e lei ci dice, più che la solitudine, credo che il vero problema sia una vita caratterizzata da una mancanza d'amore. Pino, è interessante raccogliere il ricordo così vivo dei nostri telespettatori. sentendo le voci del web però mi veniva anche da chiederti come mai, proprio sul web poi, sono tante anche le voci delle persone che mettono in discussione questa sentenza del gaslo, quasi ci fossero delle zone rimaste... Però questo un po' è tipico del web, diciamo. Però non solo nel web, anche uscendo, insomma, su quali basi? Ecco così togliamo ogni dubbio. Sul fatto che ci sono pochi elementi, pochi indizi, poche tracce di sangue, per esempio sulla scena hanno indagato millimetro per millimetro nella casa di Olindo e Rosa e non hanno trovato tracce di sangue. Sul fatto che ci sono delle discrepanze di orario, sul fatto che loro due sono così spalla a spalla nel dire che non c'entrano nulla perché loro hanno ritrattato tutto, dopo aver confessato tutto, hanno ritrattato tutto, hanno cambiato avvocati, hanno ritrattato tutto. Ora, io non credo che... Sono appellati alla corte di Strasburgo. Sì, 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 sì. Sì, un po' perché, vabbè, c'è questa... Ma c'è un testimone oculare. C'è un testimone oculare che è rimasto vivo per puro caso. Che cosa aveva? Aveva un disturbo? Frigerio aveva la carotide che passava a sinistra anziché a destra, lei gli taglia la gola perché lei, da mancina, gli taglia la gola e se avessi avuto la carotide al posto giusto sarebbe morto di sanguato. Non l'abbia potuto neanche ricordare. Comunque è molto strano che non ci siano più tracce di nessun genere dei due assassini nella casa di lui. Però tutti si dimentichano del fatto che loro, andando via, loro due, incendiano la casa. Sì. E l'allarme viene dato per l'incendio, perché nessuno si accorge della strage. Viene dato per l'incendio. Perché tu dici che sono state cambiate volate? E i bucchieri devastano tutta quella parte della quadratina, cancellano tutto. Perché arriva l'acqua, milioni di litri d'acqua e tutto. Quindi è possibile. Dopodiché loro scendono, vanno nel loro box, si spogliano, mettono tutti i vestiti in lavanderia, si rivestono, buttano via tutti i vestiti. Ma mia c'è la pulizia. Maniaci ossessivi della pulizia. Si rivestono, prendono la macchina e vanno a Como e vanno in un McDonald's a mangiare. E tengono lo scontrino, che è una cosa anche curiosa. Però tengono lo scontrino perché c'è l'orario. E l'orario dicono, ma come? Noi eravamo a Como mentre quelli uccidevano. Poi in realtà si capisce... Provano a precostituirsi un alibi. Provano a precostituirsi un alibi. Però c'è una macchiolina, una macchiolina di sangue, nell'auto, che appartiene a una delle vittime. Una macchiolina. E effettivamente uno potrebbe chiedersi come c'è arrivata l'acqua e la macchiolina di sangue. Poi c'è la cosa decisiva di Frigerio, che si sveglia dopo una settimana. A parte all'inizio che dice, ho visto il diavolo, che però è abbastanza plausibile. Esce da un'operazione, dalle anestesie, da tutto quanto. Dice, ho visto il diavolo, un uomo nero che mi aggrediva. Ma poi? Ma dopo dieci ore lo interrogano, anzi lo intercettano perché i carabinieri gli mettono una cimice nel letto. E quando lui, Frigerio, vede il figlio, dice, a me pareva quello di sotto, ma non l'ho detto ai carabinieri perché mi sembra pazzesco. E ne sbaglia nome, non lo chiama Olindo, lo chiama Ovidio, fai conto. E dice, mi sembrava che fosse Ovidio, ma non lo posso dire ai carabinieri perché ho paura di un ricordo così. Poi più passano le ore, più lui è più, poi chiama i carabinieri e dice, ma no, ma era Olindo quello che ha provato a uccidere. Diventa tutto nitido. Quindi tutto diventa più chiaro. Più quelle conversazioni. Di qualunque caso possiamo riaprirlo infinite volte, ma questo mi sembra abbastanza assodario. Dicevo ci vuole un triplo salto mortale per passare da quello che stiamo ricordando, qui insomma su cui stiamo riflettendo, a un'idea più positiva di vicinato. Però abbiamo bisogno Martini, che la volevamo qui, insomma di un po' di ossigeno, perché lei ha ideato un progetto che si chiama Buon Abitare. Un progetto che nasce proprio dove il Buon Abitare sembra quasi irrealizzabile, a volte difficile. Ci spieghi un po' di che si tratta. Io credo che queste riflessioni, che sono estremamente affascinanti, alla fine ci danno pochissime indicazioni su quello che noi dobbiamo fare oggi per ricostruire un tessuto sociale, per ricostruire comunità. Quindi l'idea è semplicissima questa del Buon Abitare. Le persone vivono sotto lo stesso tetto, sono costrette a condividere per la vicinanza fisica una serie di cose, ma questa vicinanza anziché essere un'opportunità è vissuta come disagio. E i fenomeni sono quelli che avete detto, la solitudine, il rancore molto spesso, i conflitti che ci sono. Ecco, quindi voi come vi siete attrezzati? Con che tipo di progetto? Che cosa state proponendo? L'idea è quella di fare in modo che le persone che vivono sotto lo stesso tetto, ma quelle persone normali, cioè qui non andiamo a cercare case di Olinda e di Rosa, di Olindo e di Rosa. Andiamo a vedere nella vita di tutti i giorni dove le persone giorno per giorno costruiscono goccia dopo goccia, questa tensione che poi sfocia anche in casi eclatanti. Ma il problema non è questo, il problema è il disagio che quotidianamente le persone vivono nella prossimità, vivendo sotto lo stesso tetto. E quindi l'idea qual è? Che bisogna andare là, i servizi che ci sono sono organizzati per target. Cioè ci sono i servizi, i servizi sociali, ci sono gli anziani, ci sono i disabili, ci sono i pazienti dei cosiddetti centri di salute mentale. L'idea è quella, nei luoghi dove le persone si trovano a vivere insieme, portare dei servizi che permettono alle persone, uno, di affrontare i problemi sul nascere. Quindi se ci fosse stato qualcuno in quel contesto che riusciva a intercettare dei segnali che magari erano segnali deboli, forse qualche cosa si poteva evitare, si poteva scattare una sorta di allarme. Ecco, qui mi faccio capire, questo progetto che nasce da tutte queste considerazioni, queste riflessioni che stiamo riattraversando, è un progetto concreto che voi portate all'interno di condomini? L'idea è quella di fare in modo che nei condomini dove ci sono delle persone che avrebbero voglia di fare qualche cosa, ma che non riescono a farlo perché gli manca l'iniziativa, gli manca il supporto di qualcuno, possono effettivamente cominciare a fare qualche cosa per ricostruire dalla base delle relazioni che assomiglino vagamente a un'idea di comunità. Ok? E per far questo noi abbiamo creato un'associazione che si chiama appunto Buon Abitare, che ha come obiettivo quello di far nascere nei contesti abitativi dei circoli di Buon Abitare, che significa rimettere al centro la possibilità che la prossimità fisica non sia fastidio e basta, ma che sia opportunità, che permetta alle persone di conoscersi, di parlarci, di discutere insieme, di decidere insieme e di fare anche delle cose insieme. Il che porta vantaggi per tutti. Funziona, migliora pure la qualità della vita. In alcuni contesti, ma non laddove succedono casi eclatanti come quello di cui abbiamo parlato. Questa cosa è molto più generalizzata. Ovvio ci sono molte esperienze di quelle che vanno sotto il nome dell'abitare collaborativo, esperienze di coausi in condomini solidali, l'esigenza c'è, sicuramente tutti hanno sentito parlare delle social street, L'idea è quella di fare in modo che si possano riscoprire relazioni fra persone e che si sia in grado di sostenere la fatica che è necessario fare per stare in rapporto con gli altri. I luoghi comuni sono diventati deserto. Io in alcuni progetti... E si cerca di creare delle oasi, così mi pare di capire, no? No, l'idea è quella di generalizzare questa cosa. Quindi, mentre ci sono esperienze che sono delle oasi, persone che risolvono i loro problemi perché trovano degli equilibri... L'idea è generalizzare questa cosa. E qualcosa di tutto questo sta funzionando. E per fortuna, Martini, lei ci ha dato un po' di speranza, no? In questo racconto era abbastanza tragico. Grazie a lei, grazie ai nostri ospiti per aver ricordato questa assurda vicenda. Adesso, Martini, non ci spostiamo, vieni qui con me perché dobbiamo ricevere il nostro ospite, Don Claudio Burgio. Venga, venga! Perché venga Don Claudio, ben arrivato. Allora, tra pochissimo noi con lei e con altre storie ci occuperemo di vite e di storie che in comune hanno proprio la strada. Chi sono le persone che lei incontra, che popolano la strada, che incontra ogni giorno? Sono giovani, giovanissimi, che vivono situazioni di difficoltà, di disagio, esistenziale anche, e non solo economico. Sono ragazzi che incontrano il carcere minorile di Milano, il Beccaria, o anche nelle comunità dove accolgo questi ragazzi, a volte trovati anche sulla strada. E sono storie che hanno cambiato completamente il tuo sguardo. Che cosa significa per lei dare una seconda opportunità a queste persone? Vuol dire far ritrovare a loro il gusto di vivere, il sapore della vita, perché non è solo una questione di risolvere problemi concreti, il lavoro, certamente, sono cose importanti, ma innanzitutto questi ragazzi hanno il bisogno di ritrovare il vero sé, quello che sono dentro. Quando rivede il loro sorriso? Eh, sono contento anch'io. Secondo me anche il suo modo di sorridere è cambiato, perché unire l'altare alla strada è una bella sfida. Eh sì, sì, l'altare è coniugato alla strada, non c'è strada senza altare e viceversa, per cui la vita è una continuità di luoghi, di spazi, di tempi. Vedevo Cinzia molto interessata a questo... Mi chiedo, sono molto interessata alle persone della strada, questo è il vero problema. Adesso ne stiamo parlando in questi giorni per il freddo e leggevo che c'è il 21% in più di senza tetto rispetto all'anno scorso. Il 21% in più e sono persone ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro o giovanissimi che non riescono a trovarlo, lo trovano a saltuario. Quindi sono persone che non hanno un tetto, sono costrette a vivere per la strada e se non ci foste voi e i bravissimi volontari sarebbe veramente una tragedia, perché siete voi che avete aiutato in questi giorni queste persone a non morire di freddo. Un canto come Don Angelo, eh? Sì, certo. Allora... È un racconto che ne... Un racconto che... Allora, vorrete... Questo racconto continuiamo a farlo, Don Angelo. Buono, vale la pena. Direi, e soprattutto vale la pena, parlando di vicinato, ricordiamoci dei vicini che non hanno casa. Peraltro. Cioè, quelli che incontriamo per strada e che magari dormono lungo la strada. E che magari non guardiamo le azze. Un gesto di solidarietà, una coperta, qualcosa... Allora, dovete seguirle queste storie, perché adesso incontrerete sacerdoti come Don Claudio, ma anche maestri di strada, medici di strada. Insomma, tante vicende, quindi noi vi aspettiamo tra pochissimo qui e vedrete come fanno la differenza. Vi aspettiamo.